Siamo in diretta dall'Avicor Stadium di Selvapiana per questo preliminare di Coppa Italia, tornano i grandi match qui a Campobasso, finalmente il derby, uno dei più sentiti appunto quello tra Campobasso e Termoli. Ancora il Campobasso lì davanti, Cicciori, Pabello, il pallone per Di Nardo, la conclusione di Di Nardo che non c'entra allo specchio della porta. La rincorsa, poi la conclusione col Mancino, esposito, sicuro. Cerca subito la verticalizzazione, poi Corvino, attenzione, può provare la conclusione, Corvino, Corvino, c'è forse un tocco con l'abbraccio, dice di no il direttore di gara, palla che resta lì, attenzione, Corvino! La parata di Lombardo, la parata di Lombardo, traversone di Pontillo, per Di Nardo, il tocco di Di Nardo, Lombardo, troppo debole. Maldonado, la punizione di Maldonado! Maldonado! Luis Maldonado, 1-0 per il lupo! Che sta andando largo sulla sinistra, anche Ciccio Ripa fa tutto da solo, Corvino, ora il pallone per Ciccio Ripa, lo scarico è per il camato di prima, per Di Nardo, Di Nardo dentro le aree di rigore, attenzione, Ripa! Ripa! Ciccio Ripa, 2-0! Vediamo se va nuovamente Maldonado-Corvino, vorrebbe andare Corvino, anzi no, Maldonado, la rincorsa, poi il tiro di Maldonado, questa volta alto sopra la traversa. Pallone per Mengani, ancora Mengani, la mette dentro Mengani, non c'è nessuno, Corvino, viene fermato poi, si riparte da Maldonado. Alza la testa, Maldonado, serve di nuovo Corvino, sulla sinistra può puntare l'uomo, Corvino, se ne va la mette dentro quella al sinistro, la spizzata di testa! Poi pasticciano Lombardo e il suo compagno, la conclusione di Tordella! E Lombardo, questa volta è sicuro. Dalla bandierina Corvino, sul primo palo, attenzione la spizzata di testa di Gonzales, Lombardo, Cagnini, il traversone di Cagnini sul secondo palo, si eleva, ricamato, senza però trovare il pallone. Mengani, la conclusione di Mengani! Il palo di Mengani, il palo di Mengani. Messo giù, calcio di rigore, calcio di rigore per il Termoli. La rincorsa di Vittorio Esposito. Il destro è il goal. 2-1. Prova ad andarsene da solo Bonacchi, guarda c'è Abreu da solo, c'è Abreu da solo! Davanti la porta, Abreu, 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 appoggia al lato. E finisce qui, finisce qui, finisce qui! Ha vinto il campo basso, 2-1. Sarà il lupo ad andare a Vasto Girardi nel primo turno di Coppa Italia. Le reti di Maldonado e Cicciolipo, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia quest'oggi. Bravo Bascos! 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 Bravo Bascos!